Una vera e propria maxi operazione antidroga è scattata all'alba di oggi nelle province di Salerno, Avellino e Firenze ed opera dei carabinieri del comando provinciale di Salerno con il supporto del settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano e del nucleo cinofili di Sarno. I militari hanno eseguito un provvedimento cautelare messo dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 26 indagati, 11 in carcere, 9 agli arresti domiciliari e 6 con obbligo di dimora nel comune di residenza. Sono gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso della transnazionalità del reato, detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione, porto abusivo di arma, sostituzione di persona, uso di atto falso, falsità ideologica, favoreggiamento personale, ricettazione, minaccia e danneggiamento seguito da incendio. I provvedimenti scaturiscono da una vasta ed articolata attività di indagine avviata dal nucleo investigativo carabinieri di Salerno nel mese di giugno 2017 sotto la direzione con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia. Un canale di rifornimento che andava verso i Balcani e l'altro verso l'Olanda e i rifornitori erano sodali sia italiani che stranieri che hanno portato nella provincia serenitana grossissime quantità di sostanze stupefacenti. Comandante, gli erpini che loro avevano in questa rete di spazio? Gli erpini erano dei gregari, i capi erano autoctoni, quindi parliamo di persone di Acerno, ma gli erpini erano dei gregari che fornevano un contributo in termini organizzativi all'associazione presente in Acerno e zone Limetro. Il collegamento con Ciro Persico è incidentale poiché gli avversari di questa holding del crimine si sono rivolti a lui per avere spazio sullo stesso mercato sui quali invece volevano avere il monopolio, i capi di questa organizzazione per cui lui si è prestato grazie al suo ascendente, al suo ascendente criminale a svolgere un'azione di intermediazione che non è stata oggetta di evidenze investigative ma che poi ha condotto a una sostanziale PAX tra i due gruppi per cui le attività sono state portate avanti nel corso del tempo. Quello che è stato sequestrato è quella che in gergo viene dai acquirenti e spacciatori denominata amnesia, che si tratta di cannabis ad elevato contenuto di principio attivo. Questa viene ottenuta sia con particolari tecniche di coltivazione sia perché hanno modificato questa pianta. Quello che viene sempre riscontrato è questo continuo aumento del principio attivo della cannabis e dei suoi derivati, quindi dell'hashish e in molti campioni c'è un elevato tenore in delta 9 THC. Il costo? Il costo è di poche decine di euro a dose.